Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita, oggi siamo su Age of Undead lo sto iniziando con questa modalità solo per darvi comunque un'idea perché il gioco costa 29,99 come prezzo pieno e che è un prezzo altino, pesa anche parecchio come giga, è uno strategico in tempo reale ma come potete vedere c'è anche la possibilità di viaggiare all'interno di veicoli velivoli e sparare contro i non morti perché questo gioco ha tre fazioni, gli eserciti nazionali, gli infetti e i sopravvissuti, i sopravvissuti sono i classici che si rifugiano in un accampamento e sopravvivono, gli eserciti sono quelli più forti a livello di armamentario e invece gli infetti sono gli zombie, ma gli zombie dotati di una strana e straordinaria capacità intellettiva. Il gioco è uno strategico, puramente uno strategico ma ha anche questa componente di sparatutto diciamo in prima persona dall'interno di aerei dove potremo dare una mano alle nostre truppe a terra. Tra l'altro, adesso voglio vedere se posso uccidere i miei ma non credo, vedete che il gioco ha queste fasi di giorno-notte ho voluto iniziare da questo perché probabilmente poi non lo vedremo più, praticamente con il giorno-notte durante la notte non vedremo nulla e dovremo costruire noi le luminarie per poter permettere a noi stessi di vedere qualcosa. Gli infetti sono in grado anche di infettare i nostri uomini e quindi i nostri soldati diventeranno degli zombie. Vi chiedo appunto di non valutare questo titolo dalla grafica ma di valutarlo un pochino più a tutto tondo. Ci sono varie, questa è la campagna, nuova campagna, dominio o potrei farvi vedere anche semplicemente il tutorial che è bello tosto pure lui, anche perché il tutorial è veramente tosto. Allora, lo inizio a mettere in pausa col tasto P, non con lo spazio, scelta un po' particolare. La cosa interessante è che abbiamo un geniere che è in grado di costruire le cose. Il gioco non viene definito come un tower defense, infatti non potremo mettere mille mila difese. Non è un tower defense, per quanto noi riceveremo l'attacco degli zombie, dei nostri avversari. Allora, inizio a farvi vedere quello che il geniere può costruire, giusto per darvi un'idea. Abbiamo le tende. Allora, in sintesi qua abbiamo la possibilità di vedere le difese. Infatti, come vi dicevo, non è un tower defense, quindi abbiamo 20 postazioni massimo di difesa. Abbiamo gli uomini, gli uomini disponibili sul campo di battaglia, quelli costruibili senza necessità di costruire ulteriori edifici. Quindi, ora come ora, abbiamo 20 persone massimo e 200 il numero massimo, massimo anche con gli edifici di persone al nostro servizio. In realtà, il gioco ci suggerisce che potremo aumentarlo in qualche modo, ma non ci spiega come, almeno il tutorial non ce lo spiega. Quindi, se noi diamo subito il compito al nostro geniere di costruire un paio di tende, possiamo iniziare. Sto ricalcando un pochino quello che mi ha fatto fare il tutorial all'inizio. Abbiamo le risorse, che sono il cibo, il metallo, le sostanze chimiche e il carburante. Invece, questi sono i punti di supporto per richiedere degli attacchi speciali. Oltre al ciclo giorno-notte, quindi la notte che non ci farà vedere più in là di questo cerchio, quindi sarà tutto buio, completamente buio, dovremo costruire delle luminarie, torre illuminante alta e poi metterci magari del filo spinato per proteggere la nostra postazione, dovremo, vedete adesso inizio a, anzi facciamo una cosa, a creare un altro geniere, così iniziamo la nostra difesa. Allora, praticamente con il tasto C selezioniamo l'ingegnere, con il tasto Z selezioniamo tutti i soldati insieme. Allora, iniziamo con magari queste protezioni qui, in modo da essere ben protetti. E iniziamo, vi faccio vedere anche gli edifici costruibili, li metto in pausa. Abbiamo le tende, fabbrica di cibo, fabbrica e la fonderia, praticamente questi banalmente producono queste unità, stabilimento chimico, la raffineria, la caserma, fabbrica di veicoli, fabbrica di artiglieria, eliporto, aeroporto, stazione satellitare e poi le stazioni di illuminazione, le protezioni, le barriere di protezione, le mine e le mitraliatrici e i lanciamissili, tutto così. Ma non finisce qui, facciamo subito la caserma, la piazzo dove mi dà il verde. Il verde non me lo dà perché sono in pausa. Ok, la mettiamo magari qui. Ok, graficamente non è eccezionale, senza dubbio, ma tutto questo è molto funzionale perché poi quando avremo i nostri aerei potremo anche volare appunto con loro e dare una mano ai nostri soldati. Il gioco è punitivo al massimo, infatti non esiste la possibilità di accelerare, ma solo di diminuire il tempo e questo sarà molto utile nelle nostre fasi difensive. Votiamo e mettiamo anche un'altra protezione anche qui in modo da essere abbastanza protetti. Io nel tutorial sono morto, ma subito, quindi vedete qua possiamo produrre dei soldati. Ora con le tende che possediamo possiamo produrre fino a 50 soldati. Abbiamo due unità, 52 massimo con le unità che abbiamo, quindi io adesso potrei piazzare il cecchino o no, l'antisommossa, il mortaio. Piazzo uno col mortaio, mentre invece con control premuto produco 10, 10, 10 di questi soldatini qua. E quindi li produco. Mentre prendo con un tasto C un geniere libero e vado a piazzare l'aeroporto. L'aeroporto lo metto magari qui, così inizieremo a avere dei velivoli. I velivoli li potremmo piazzare in diversi hangar che abbiamo all'interno, noi abbiamo quattro e potremmo scegliere un aereo. Questo aereo ci costerà al momento della costruzione, così come anche gli edifici, tot di questi materiali. Ma l'aereo ovviamente può stare in volo solo per un determinato numero di secondi o minuti. dipende dal carburante che hanno, quindi poi saranno costretti a scendere, a rifornire, quindi restare fuori dal campo di battaglia per qualche minuto e così via. Qua abbiamo in alto un indicatore dei modificatori e tiene conto anche degli eventi che possono succedere, ad esempio una tempesta, la pioggia, il temporale, insomma, e ne subiremo delle conseguenze. Qua invece abbiamo le nostre unità, possiamo ovviamente scegliere dove farle schierare, abbiamo le nostre unità divise qui per tipo e cliccando su una di esse possiamo andare a piazzare il nostro esercito. Quindi posso andare a piazzare le prime, le seconde, si potranno creare, penso, anche dei gruppi, che poi, vabbè, quello ci penserò, e il cerchino lo mettiamo indietro. E qui stiamo dispiegando tutte le nostre unità. Abbiamo l'aeroporto, l'aeroporto possiamo, adesso questi non so ancora come utilizzarli, perché sono l'UAV per poter scansionare le unità, possiamo scegliere uno di questi aerei. Abbiamo il caccia, l'aereo d'attacco, l'aereo anticaro, il bombardiere tattico, il napalm, le bombe a grappolo, il fosforo bianco e il bombardiere strategico. Io faccio l'aereo d'attacco, faccio il caccia, faccio il tattico al napalm e il tattico al fosforo bianco. E abbiamo questi aerei che sono pronti a partire, quindi faranno delle dovute valutazioni. Sulla mappa abbiamo le nostre varie... Adesso qua non vedo nulla, ma so, dovrebbero essere anche le altre fazioni. E devo ancora apprenderlo bene, cioè faccio tutto questo perché trovo tutto questo intrigante, intrigantissimo, ma bisogna un attimino approfondirlo. Possiamo lanciare l'aereo d'attacco e metterlo qua, pronto, in decollo. Non ho ancora capito come mettermi all'interno di questo aereo, poi magari ci studierò. Comunque l'aereo può scegliere, può scegliere in che modo farlo attaccare, però insomma lui starà su e terrà d'occhio la distanza, diciamo, dei nostri nemici. Il tutorial lo si consuma praticamente molto velocemente, ma va a finire molto male. Nel senso che tra un po', con l'arrivo della notte, ci attaccheranno e... Il telaereo sta su, ha un top di carburante, effettuerà l'attacchi massimo e poi tornerà giù. Adesso non li mandiamo, ma io prendo un geniere, piazzo un'altra tenda ancora qui. È bello che si può piazzare in una griglia, ma dove capita, e andiamo a piazzare altri soldati. Questo, col mortaio, e piazzarne altri di questi. Vediamo se riesco, ma credo di non avere sufficienti... No, ho già costruito la tenda, quindi va bene. Possiamo piazzare delle difese, le mettiamo magari qui. Tornerete lanciamissili. La partita ovviamente per noi finisce quando il quartier generale viene distrutto. Col quartier generale creiamo un soldato semplice, un fuciliere o un geniere che appunto ci va a costruire le varie cose. Voglio provare a costruire anche un... abbiamo i genieri occupati, credo. Perché vedete che i genieri, premendo C, non me ne dà neanche uno. Adesso sì, perché ha costruito la tua retta, voglio fare l'eliporto. L'eliporto lo piazziamo qua, lo botandolo, lo mettiamo qua. E vediamo anche qui che cosa si può creare. Ovviamente, come ho già detto, bisognerà approfondire. Qua ci sono delle unità di soldati, fucilieri, che stanno andando da qualche parte, quindi sono altri eserciti nazionali. E stanno andando addosso a qualcuno. Qua abbiamo... non c'è nessuno. Gli arancioni non li vediamo, i neri non li vediamo, ma sicuramente... Eccoli qua. Questi si stanno già... mi piace tantissimo sta cosa. Si stanno muovendo verso probabilmente gli infetti. È un mega esercito questo. E hanno già costruito comunque anche la costruzione dei mezzi, mentre noi ci siamo concentrati solo sulla parte aerea. Beh, potrei farlo, una fabbrica di veicoli e la mettiamo praticamente qui. A breve arriverà la notte, quindi... Siamo messi un po' male. Quando poi l'ingegnere si libera, ok, facciamo altre tende in modo da poter avere anche più veicoli. Ok, sta arrivando la notte, come potete vedere. Vediamo se riusciamo a fare l'elicottero. Da rifornimento, da trasporto... L'elicottero d'attacco. Lo creiamo. Ok, la notte è arrivata. Si sta già suonando l'allarme. Abbiamo tutti i nostri soldati. E non voglio selezionare solo questi. Io prendo adesso e li piazzo qua davanti. Così abbiamo l'esercito. Vedete che non si vede niente. Ed è importantissimo fare le luminarie. In modo da poter... Ok, abbiamo l'elicottero. Lo mettiamo in supporto. Stanno attaccando forse. Vediamo. Vediamo quando inizieranno a scanoneggiare. Non abbiamo altro. Abbiamo fabbrica di mezzi. Qui abbiamo veicolo leggero. Leggero con i missili. Corazzato leggero. Di supporto. Trasporto blindato. Cambio da rifornimento. Carro armato. Carro armato pesante. Facciamo metagliatrice e missili. E mettiamo anche dei veicoli qui. In modo da difenderci. Eventualmente dovessimo subire un attacco. Questi intanto stanno andando avanti. Verso la fazione rossa. Ah, qua è già partito uno scontro. E ci sono gli infetti. Chiaramente lo vedete. La Ragnopassit. E noi abbiamo visto solo gli zombie in realtà. Oh, stanno arrivando. Stanno arrivando. Eccoli. Eccoli. Siamo già all'opera. Quindi prendo il mio esercito. Inizio a metterlo. Eh, mi ha distrutto le squadre. Ma va bene. No, lo mettiamo qua. L'esercito lo mettiamo qua. I rossi credo siano gli infetti. Qua vediamo qualcosina. Ma non si vede nulla di quello che sta succedendo. Non lo so. A me nel tutorial mi avevano massacrato. Probabilmente qua nella partita non... Questo non succede. Non succederà. Potremmo andare in ricognizione in un elicottero. Qua. E vedere cosa succede. Anche se non credo cambi molto. Mi servirà probabilmente qualcosa per la ricognizione, credo. No, però ci hanno attaccato ma li abbiamo distrutti. Oh, sta arrivando il giorno. Quello che non so dire, vi ammetto la mia ignoranza. E non so se si potrà attaccare altre unità simili. Cioè, nel senso che noi potremmo attaccare altri. E qua sono infetti. Saltatori. Sono saltati sul... Cioè, l'idea è ottima. La realizzazione, se passiamo sopra la parte grafica, che è comunque una grafica molto molto semplice, è molto bello da vedere. Cioè, è molto bello da vedere lo scontro che sta avvenendo tra i due. Potremmo andare su e dar supporto. Anche se la nostra unità fa assolutamente ridere rispetto a quella degli altri. Possiamo farli decollare tutti e potremmo dargli una mano. Questo aereo. Credo non sia. Sì, forse sì. Vediamo se riusciamo a dargli una mano. Vediamo se va a dargli una mano. Sì. Possiamo settargli il tipo di attacco, se ha l'attacco bilanciato difensivo. Vediamo se gli da una mano. Sì. Caspita, ha fatto un attacco. E ora deve tornare indietro. Molto interessante. È abbastanza essenziale nei menu. Comunque perché non c'è gran che d'altro in tutto questo. Non saprei dirvi della diplomazia, ma da quanto ho detto il tutorial all'inizio, la diplomazia non conta molto qui, ma conta più l'attaccare. Questi io non vorrei stessero arrivando qua da noi. Adesso io voglio vedere se posso attaccarli. Io premo questo e gli dico attacca loro. No, non li attacca, perfetto. Perché sono tutti corporativi in nostra difesa. Se non ti sparano sono alleati, se ti sparano sono nemici, se distruggono la loro base è bene, se ti distruggono la base è male, gli aerei sono forti. Il tramonto è un momentaccio, dobbiamo evitare le pandemie. Vabbè, questa me la sarei magari evitata. Allora. Vediamo un po'. Ma sì, dai, mandiamoli in supporto. Decollate tutti. Eh no, quali fa? Vediamo se riusciamo a dargli una mano. Stiamo andando. I mezzi sono già on the road. Facciamo decollare il caccia. Può fare quattro attacchi. Ci stanno attaccando. No, 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 non ci stanno attaccando. Stiamo andando noi in battaglia. E' quella, perché è per quello che è saltato l'allarme. Ok. Le nostre truppe sono qui. I nemici sono là. Ah, c'è la nebbia! E' partito l'evento nebbia e quindi... Cos'è questo? Un fungo? No, sputtatore di bile. Eh sì, non si vede una ceppa. Le nostre truppe... Stanno arrivando ma non si vede niente. Non vedo i soldati però. Ah no, ecco li qua tra gli alberi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, ovviamente bisogna giocarlo come si deve. La cosa che non mi spiego è che il gioco occupi oltre 20 giga. Dai, entriamo in battaglia anche noi, anche se io spero che vada via. Vedete che cliccando qua, cioè passando col mouse sopra, ci dà il malus che ci porta a questo evento. Ora, io ho fatto una scelta abbastanza scelerata perché non ho più difese nella mia base. Per quanto io una ventina di soldati me li posso ancora fare. Perché tipo un 10, 10, 11, ci sta. Però, ok, stiamo dando una discreta mano. Continuate, avanzate, avanzate. Mamma mia che fastidio la grafica così. Con questa nebbia, spero se ne vada via presto. Se poi arriva la nebbia di notte è ancora peggio, siamo fritti. Uh, guarda un po' qua quanta roba c'è. Attaccate, attaccate. Questo è un bombardiere non nostro. Qua sta sputtando bile qualcuno. Attaccatelo. Ok. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo un bel po' di soldati, ne abbiamo una settantina, se no di più. Sì, 77. Più che altro, spero non ci attacchino. Ma nel tutorial vi attaccano subito. Infatti il tutorial potete fare quello che volete. Queste sono solo schede informative, però, no ma siamo già nel tutorial effettivamente, però sta già andando diversamente da come è andata l'altra volta. Poi ovviamente potete giocare nei panni delle tre, e ognuna delle tre fazioni ha unità costruibili diverse. E se pensavate di aver visto tutto con queste battaglie, insomma, queste cose qui, in realtà non è così. Perché? Perché la fase della campagna è invece totalmente diversa. Infatti adesso, vabbè, potrete fare i sopravvissuti, potrete scegliere le alleanze come abbiamo visto. Ma, iniziando la campagna, qui parte il terzo genere di gioco. Abbiamo visto il combattimento in prima persona, abbiamo visto lo strategico in tempo reale, e ora stiamo parlando di strategico a turni. Questo non l'ho approfondito tanto, perché ovviamente il terzo aspetto del gioco è quello un pochino più ampio, dove noi possiamo camminare con le nostre unità, andando a costruire cose. Ho scelto l'armata, sono un pirla, voglio solo farvelo vedere velocemente. Vedete, potete terminare il turno e vedete l'interazione con gli altri. Ora, potete andare negli vari posti e potete costruire edifici, in questo caso aeroporto, insomma quello che è. E quando non abbiamo missare le unità sufficienti? Questo è un altro aspetto che bisognerà approfondirlo. Ovviamente attendo il vostro parere sul titolo, ma sappiate che quando andremo a combattere sul campo di battaglia, verrà generata la partita in tempo reale. Quindi non l'ho approfondito tantissimo, ma sappiate che se guardate anche gli screen su Steam, ci sono delle immagini dove si combatte proprio all'interno di una città. Allora, la parte dello strategico in tempo reale l'ho trovata molto bella. Lo strategico, diciamo, a turni, devo ancora approfondirlo abbastanza e continuo a sbagliare a tasto. Vedete che poi passate il turno e anche gli altri agiscono. Qua vedete abbiamo il nostro quartier generale. Qua abbiamo i quartier generali degli altri e la mappa con i nemici. Ora facciamo la prova. Perché al momento non si possono costruire... Questi non so se siano nostri alleati, ma mi sa di sì. Lì, là in fondo, vedete, ci sono degli infetti. Adesso proviamo a... Adesso stanno già un pochino attaccando, stanno già avvenendo delle battaglie. Andiamo avanti. Continuiamo a passare il turno, proviamo a raggiungere questa zona calda e vediamo che succede. Sì, 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 va bene. Ok, a breve andremo in battaglia. Ok, eccoli qui. Ok, obiettivo braccio di ferro, risolve automaticamente o combatti. Quindi è diventato una sorta di... di... total war, perché alla fine, vedete, iniziamo la battaglia, viene caricata la mappa con la nostra base, con le case, e quindi la possibilità di andare a spendere le nostre risorse e costruire i vari edifici, come abbiamo già visto prima nella parte strategica dell'avventura. Molto interessante. forse un filino dispersivo, ma sicuramente intrigantissimo come titolo. Age of Undead. Era quanto visto. Fatemi sapere cosa ne pensate, il prezzo non è sicuramente basso, ora che sto registrando è scontato a 26 con il 10% di sconto, ma di base è 30 euro. Fatemi sapere che cosa ne pensate, è già in italiano, può essere interessante secondo me per molti di voi. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao. Grazie. 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 Grazie.